Bene, bene ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Bene ragazzi, la domanda del giorno è, ha un senso la funzione cerca verticale all'interno del Visual Basic Application? A questa domanda qua ho creato un sondaggio qui nel mio canale, dove effettivamente solamente il 41% dice ok, secondo me ha un senso il cerca verticale nel VBA, mentre la maggior parte, come potete vedere, si dissociano completamente e dice no, assolutamente no, non ha alcun senso il cerca verticale nel VBA. Volete sapere cosa ne penso io? È che dipende, perché in alcuni casi vanno bene le formule e in alcuni casi bisogna farlo con il Visual Basic Application, semplice, perché magari abbiamo un progetto interamente sviluppato con il Visual Basic Application, quindi dobbiamo mettere questa funzione qua con un codice e non con una formula. Detto questo, sono sicuro che tanti di voi saranno pensando, sì, ma nella vita reale quanto potrebbe servirci questo cerca verticale nel Visual Basic Application? Bene, in realtà ci potrebbe servire poco, però se voi pensate che lo scopo di questo canale qua è uno scopo didattico, vale sempre più la pena imparare sempre più cose per avere ovviamente più dimestichezza e tenerci sempre un pochettino aggiornati con il Visual Basic Application. Bene ragazzi, detto tutto questo, facciamo una cosa, apriamo il nostro Excel, qui abbiamo la piccola griglia, dove qui abbiamo dei nomi, in base ai nomi ci facciamo istituire prima con le formule la città e poi con il VBA ci facciamo istituire la città. Ovviamente queste informazioni qua le andiamo a prendere da un altro foglio, che lo troviamo qua, il foglio rubrica, dove ovviamente abbiamo una rubrica, dove abbiamo i vari campi, nome, città, indirizzo, email, ok? Quindi in base al nome ci facciamo istituire, diciamo, l'elemento corrispondente che è nella colonna a fianco, ok? A questo punto qua iniziamo subito con il Cerca Verticale. Ecco, lo faccio prima con le formule normali native di Excel, per il semplice motivo che, visto che poi dobbiamo trascrivere questa formula qua nel VBA, è sempre meglio vedere un attimino come funziona con le formule, anche se ovviamente le conoscete già abbastanza bene, però è sempre meglio fare una piccola rinfrescatina. Iniziamo subito con il Cerca Verticale, ok? Ecco, qui un'altra cosa importante, vedete che qua mi è comparso lo screen tip con tutti i parametri. Ecco, voglio rimarcare questa cosa qua, perché poi quando andiamo a scrivere il codice Visual Basic Application, non abbiamo tutti i parametri scritti così in maniera descrittiva, come scritto qua. Ad esempio abbiamo il valore, poi abbiamo la matrice tabella, l'indice e l'intervallo. Perché poi nel Visual Basic Application non troveremo semplicemente scritto argomento 1, argomento 2, argomento 3, argomento 4. Molto, molto blando. Quindi, teniamo a mente i parametri che abbiamo di questa funzione qua, Cerca Verticale. Come primo parametro mi chiede il valore, ovviamente il valore è quello che troviamo qua, in questa cella qua. Ecco, qui non gli do nessun riferimento di cella, nel senso che quando copio questa formula verso il basso, questo riferimento si adatta alle celle che ci sono sotto, ok? Facendo il punto di virgola mi chiede la matrice tabella. Ecco, la matrice tabella vado qua in questo foglio qua e seleziono tutta questa tabella qua. Ecco, qui c'è da dire una cosa molto importante. Ecco, come prima cosa diamo un tasto funzione F4, vedete che qua nella formula qua in alto, perché l'ho presa adesso nella barra della forma, ho messo il loro davanti alle lettere, i numeri, vuol dire che è bloccato in tutte le direzioni, perché quando copierò la formula verso il basso, questo riferimento qua, che adesso è tutto tremolante, rimarrà bloccato, ok? Dopodiché qui abbiamo sempre lo screen tip che ci segue. Quando noi ci saltiamo da un foglio all'altro, lo screen tip ci segue sempre. Ecco, adesso però voglio dire una cosa molto importante del Cerca Verticale, cioè di come deve essere disposta la tabella. Quando utilizziamo il Cerca Verticale, il valore che noi cerchiamo deve essere sempre disposto sulla parte sinistra della tabella, perché il Cerca Verticale cosa fa? Non fa nient'altro che cercare un valore, lo cerca sempre nella colonna più a sinistra, lo cerca sempre dall'alto verso il basso, e quando trovo il valore che gli interessa, ci facciamo restituire l'elemento corrispondente di una colonna o due o tre a fianco, ok? Oppure di più colonne. Bene, detto questo, andiamo qua in alto, mettendo punto e virgola, mi chiede l'indice, ok? Bene, in questo caso qua, mi interessa la colonna, questa qua, delle città. Ecco, l'indice fa riferimento, diciamo, al numero di colonna di questa tabella qua, ok? Non delle colonne di Excel, ma delle colonne di questa tabella qua, per cui di questa matrice tabella, ok? Quindi noi ci interessa la colonna numero due, quindi qua facciamo semplicemente due, perché appunto la città si trova nella colonna numero due. Facendo punto e virgola, mi chiede la corrispondenza, facciamo esatta o approssimativa? Deve essere esatta, possiamo mettere o zero o falso, che è la stessa cosa. Facendo invio, ecco qua, vedete che, poi andiamo a fare i controlli, ecco qua, vedete cosa ha fatto? Facciamo una cosa, facciamo Marzia Torino, andiamo a vedere se mi istituisce Marzia Torino, ecco qua, esatto, è corretto, ok? Ecco, vedete che qua abbiamo un errore ND non disponibile. Bene, questo errore qua possiamo, diciamo, non farlo vedere, oppure possiamo scrivere qualcos'altro al proprio posto, ok? Quindi dopo, facciamo un doppio clic, dopo il segno uguale, possiamo mettere la classica funzione se errore, facendo punto e virgola, in caso in cui c'è l'errore, beh, in caso in cui c'è l'errore vorrei che venga scritto al suo interno, non so, è inesistente, ok? Perché magari questo errore qua è inesistente. Chiudere la paretesi, invio. Ecco qua, dalla maniera di riempimento faccio un doppio clic e trascido verso il basso. Ecco qua, infatti Roberto, vedete che comunque qua, ecco qua, giusto per controllare, Roberto qua non c'è. E mi dà un record inesistente. Con le formule è tutto abbastanza semplice, ma il saltimidiato, mentre con il Visual Basic Application è un po' più macchinoso. Bene ragazzi, a questo punto andiamo a aprire il nostro ambiente di sviluppo, andiamo qua in sviluppo, Visual Basic. Io ovviamente, come al solito, mi sono portato avanti, ho creato un modulo, ho creato già un routine che si chiama Cerca Verticale. Devo dire che, come al solito, mettiamo sulla destra il nostro Visual Basic Editor e sulla sinistra Excel, ok? Bene ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è fare in modo di scrivere un codice che va a vedere qui nella cella C3 e andiamo a segnare il risultato del nostro Cerca Verticale. Però attenzione, il risultato lo mettiamo solamente nella cella C3, ma poi in un secondo momento lo metteremo anche nelle altre celle. E per mettere un'altra cella, avete già capito che lo faremo poi con un ciclo. Però per iniziare, lo metteremo qua nella cella C3. Quindi qua andiamo a scrivere un codice. Ecco, il codice che scriveremo oggi, dobbiamo fare sempre attenzione quando lo scriviamo, perché oggi lavoriamo su due foglie. Quando lavoriamo su più fogli, è sempre buona norma, quando noi andiamo a fare un riferimento a un range, a un intervallo, a una cella, dobbiamo sempre scrivere il nome del foglio. Qualsiasi volta che c'è scritto range, dobbiamo sempre anteporre il nome del foglio. Questo è importantissimo, altrimenti i codici sballano. Quindi per scrivere il nome del foglio, ci sono diversi modi. Possiamo scrivere worksheets con un indice, worksheets numero 1, numero 2, oppure possiamo scrivere worksheets con il nome del foglio, nome rubrica o ricerca. Oppure possiamo sfruttare il codice foglio. Il codice foglio che lo trovo qua è dentro la barra dei progetti, dove ad esempio qua, in questo caso qua, foglio numero 1, fa riferimento al foglio rubrica. Quindi noi andiamo a richiamare il foglio numero 1 e il foglio numero 2 in caso di ricerca. Ecco, quindi io preferisco sempre mettere il codice foglio per mille motivi che l'ho sempre spiegato, perché se qualcuno cambia il nome del foglio o sposta la posizione del foglio, noi siamo in una botte di ferro, non dovrebbero avere problemi i nostri codici, ok? Dopodiché abbiamo anche il vantaggio che con il codice foglio possiamo tranquillamente richiamare l'intellisense senza nessun problema, ok? Quindi qua adesso stringiamo e andiamo a posizionarci qua nella cella C3. Quindi chiamiamo il foglio che sappiamo che è il foglio numero 2. Ok, ctrl space, il foglio numero 2, facciamo appunto range e ci posizioniamo, abbiamo detto, nella cella C3, ok? C3, facciamo appunto value, ok? E' uguale a che cosa? Bene, qua cosa abbiamo fatto? Assegniamo a questa cella qua il valore che è il risultato del cerchio verticale, che però io adesso non lo scrivo qua su questa riga qua, ma vado a una riga a capo, space underscore, che è un'istruzione che mi occupa un po' di spazio, perché devo richiamare la funzione worksheet function, ok? Tutte le funzioni inattive di Excel bisogna chiamarle con worksheet function, ok? Infatti facendo il punto, vedete che qua nel menu a tendina abbiamo tutte le funzioni inattive di Excel, sono veramente tantissime, sono più di 400, e tra le altre cose sono anche aggiornate, perché se facendo la X vedete che mi vengono a fare le ultime funzioni tipo XLOOKUP e XMATCH, che sono le ultime funzioni inattive di Excel, che sono il cerca X e il confronta X, ok? Quindi aggiornate, ma a noi ovviamente ci interessa la funzione VLOOKUP, che è il nostro cerchio verticale. Ecco, aprendo la parentesi, vedete che lo accade? Mi vengono a fare lo screen tip con tutti gli argomenti. Gli argomenti che però in questo caso qua sono poco descrittivi, infatti c'è scritto argomento 1, argomento 2, 3, 4, eccetera, eccetera, mentre abbiamo visto che comunque con il cerchio verticale era molto più descrittivo. Ecco, visto che considerate che usiamo la stessa funzione, perché ovviamente qua stiamo replicando la stessa funzione che abbiamo scritto in Excel, la dobbiamo scrivere qua dentro, quindi vediamo che qua lo screen tip ci aiuta molto di più. Ed è per questo che l'ho fatto prima con le formule e poi con il VBA, perché così possiamo anche vedere un attimino quali che sono i nostri parametri. Abbiamo il parametro valore, poi il secondo della matrice tabella, poi indice e poi intervallo. Quindi in modo di replicare gli stessi parametri qua dentro, lo mettiamo qua nel VBA. Quindi l'argomento numero 1 è il valore. Bene, in questo caso qua il valore per il momento è la cella A3. Poi vediamo quando facciamo il loop, andiamo a vedere anche le altre cella, ma per il momento blocchiamoci qua nella cella A3. Quindi cosa facciamo? Richiamiamo sempre il foglio, che in questo caso qua è il nostro foglio numero 2, ok? Siamo sempre nel foglio numero 2, punto range A3 punto value, ok? Bene, a questo punto qua, questo qua è l'argomento numero 1, che in questo momento qua ci sta dicendo, ok, nick, qua dentro c'è scritto nick. Facendo virgola andiamo nel parametro successivo, che sappiamo che l'argomento numero 2 in Excel è la matrice tabella. La matrice tabella è quella che c'era qua nel foglio rubrica, dalla cella A2 fino alla cella D16. Quindi cosa facciamo? Bene, anche in questo caso qua io vado ancora a capo, perché qua è un'istruzione abbastanza lunga, quindi faccio space underscore e andiamo a capo. E richiamiamo ovviamente il foglio, in questo caso qua però è il foglio numero 1, perché la rubrica si trova nel foglio numero 1, punto range. Abbiate che è un range che parte dalla cella A2, due punti, fino alla cella D17, ok? Ovviamente ricordiamoci di mettere le virgolette, perché quando registro e scrivo ovviamente qualche problemino c'è sempre, ok? Bene, ecco adesso non fate caso qua D17 che fa riferimento a, diciamo, l'ultima cella a pieda che trovo qua, ma ovviamente quando questo intervallo qua si espande, dobbiamo fare in modo che anche il codice si espanda, che si adatta ai record successivi, quindi qua anziché D17 poi metteremo qualcos'altro, ok? Ma questo qua lo faremo dopo. Adesso preoccupiamoci di andare a mettere la virgola per andare a vedere il terzo parametro del cerchio verticale, perché ricordiamoci che il terzo parametro era l'indice, cioè l'indice sarebbe, diciamo, la posizione della colonna, ok? Ma non la colonna di Excel, ma la colonna della tabella, che in questo caso qua era la colonna numero 2. Quindi qua semplicemente scriviamo 2. Mettendo la virgola andiamo nell'ultimo parametro del cerchio verticale, argomento numero 4, che era l'intervallo, corrispondenza esatta o corrispondenza approssimativa? Beh, io direi corrispondenza esatta, quindi possiamo scrivere in inglese false e non false in italiano, oppure possiamo scrivere 0, va bene, false. Ok, teoricamente dovrebbe funzionare. Facciamo subito un esperimento. Andiamo qua, posizioniamoci qua, clicchiamo play, e qua facciamo esegui, vedete che funziona, per cui il cerchio verticale sta facendo il suo dovere. Però ci sono tante cose da sistemare. Bene, la prima cosa che voglio sistemare è quello di rendere dinamico questo intervallo qua, ok? Nel senso che, come dicevo prima, anziché finire qua, voglio fare in modo che si adatta comunque a tutti gli altri record che vengono inseriti successivamente, ok? Quindi devo andare a lavorare qua sul numero di riga, anziché 17, devo fare in modo, in maniera variabile, che diventa 18, 19, 20, 21, che si adatta praticamente a tutti gli intervalli, ok? Bene, per fare questo potrei scrivere qua un'istruzione, anziché 17, potrei farlo generare da una istruzione. Però scriverlo qua dentro diventerebbe anche in questo caso qua lungo. Però io cosa farei? In questo caso qua, per fare una cosa un po' elegante, io cosa faccio? Mi copio questa parola qua, e lo metto dentro una variabile, che la chiamiamo dim, e la possiamo chiamare intervallo, oppure facciamo una cosa, chiamiamola matrice tabella, ok? Visto che comunque è un argomento tabella, è un argomento appunto del cerchio verticale. Matrice tabella, es che cosa? Beh, es range, perché è una variabile di tipo oggetto, che fa riferimento appunto a range, ok? Quindi abbiamo dichiarato la variabile, ma a questo punto dobbiamo settare questa variabile qua, set, che cosa? Perché è una variabile di tipo oggetto, bisogna mettere sempre set davanti, e matrice tabella, è uguale a control v, a quello che abbiamo copiato, e adesso lo incolliamo qua, ok? Quindi cosa succede? Che matrice tabella, adesso io me lo copio, control c, e lo incollo, sostituisco questa matrice tabella, che era qua l'argomento numero 2, del cerchio verticale. Quindi in questo caso qua, diciamo che matrice tabella, ovviamente dentro matrice tabella, è memorizzato questa ambardana qua. Quindi è la stessa identica cosa. L'unica cosa è che adesso, come vi ho annunciato prima, possiamo modificare il numero, ok? Per cui adesso è di 17, ma poi deve diventare 18, 19. Quindi per fare questo, per farmi riscrivere il numero di riga, diciamo dell'ultima cella piena, ci sono diversi modi. O partiamo dall'alto verso il basso, control c, e ci posizioniamo nell'ultima cella piena, e ci facciamo restituire di conseguenza il numero di riga, che in questa cosa qua è 17, oppure facciamo il contrario, partiamo dal basso, e andiamo verso l'alto, ci posizioniamo nell'ultima cella piena che troviamo, e ci facciamo restituire di conseguenza il numero di riga. Ecco, io preferisco il secondo metodo, per il semplice motivo, che se parto dall'alto verso il basso, e qua in mezzo c'è qualche gap, cioè qualche cella vuota, vedete che succede, se faccio control c in basso, vedete che la cella attiva si posiziona quando c'è l'ultima cella piena, quindi non va fino all'ultima cella, e in questa cosa qua ci restituirebbe la cella numero 6, ma io voglio che mi restituisca la numero 17, quindi cosa facciamo? Faccio il secondo metodo, quindi parto dalla cella in fondo, e mi posiziono in alto dove c'è l'ultima cella piena, ok? Questa cosa qua l'abbiamo vista farla già tante altre volte, cosa faccio? Vado a lavorare proprio qua sul numero, anziché di 17 faccio di, lascio le virgolette, ok? E concateno con un'istruzione che adesso andiamo a generare, ok? Un'istruzione che, ricordiamoci, va a vedere sempre un foglio, che in questa cosa qua è il foglio numero 1, ecco, scriviamo sempre il foglio, ecco qua, foglio, importantissimo, numero 1, punto, range, abbiamo detto che ci posizioniamo in fondo, per cui andiamo in una cella in fondo di Excel, facciamo di, ecco, io faccio 6 volte 9, giusto per fare velocemente, punto and, ma non voglio allungarmi troppo su questa istruzione qua, che ormai la conosciamo benissimo, punto, row, ecco, row vuol dire riga, e row ci restituisce il numero di riga, perché a noi ci serve proprio il numero di riga, perché qua, vedete, qua mi serve proprio il numero di riga, in questo momento qua, qua c'è scritto 17, ma ovviamente se si espandono le righe, qua diventa 18, 19, 20, 21, eccetera, eccetera, ok? Quindi a questo punto qua abbiamo reso espandibile questo intervallo qua, poi dopo alla fine lo testeremo, ecco qua voglio rimarcare un'altra cosa molto importante, se dovessimo fare questo con Excel la cosa è molto più semplice, infatti basterebbe prendere la formula, qua anziché di 17 scriviamo un numero gigantesco, facciamo non so, 100, 1000, quello che vogliamo, e lui si adatta, ovviamente poi andremo a testarlo alla fine, ok? Bene ragazzi, a questo punto è arrivato il momento di creare un ciclo, cioè andiamo a fare in modo di popolare anche tutte queste altre celle qua, ok? Ecco, cosa dobbiamo fare? Che ciclo dobbiamo utilizzare? Beh, innanzitutto dobbiamo capire che dati abbiamo qua, qua dobbiamo andare a lavorare sui numeri, vedete che qua, io vado a segnare la cella C3, però quando sono qua nella cella C3, ma poi voglio fare in modo che diventa C4, C5, C6, C7, è anche la stessa cosa qua, questo qua era il nostro argomento valore, che andiamo a vedere prima la cella A3, ma io voglio fare in modo che poi vada a 4, a 5, a 7, a 8, quindi devo andare a lavorare sui numeri, io devo mettere un ciclo che è una sorta di contatore, che mi aumenta ad ogni volta che c'è il ciclo di uno scatto un numero, ok? Per cui se adesso qua c'è C3, poi devi diventare C4, C5, C6. E qual è secondo voi il ciclo che si presta meglio di tutto in questo caso qua? Beh, il ciclo for next, però non prima, però io ragazzi voglio fare una cosa, voglio indentare un pochettino, perché qua mi sembra tutto appiccicato, facciamo tab, tab, e qua facciamo tab, ok? Ecco, il ciclo for next prevede che al suo interno venga inserito un nome di una variabile, e visto che questa variabile qua è una sorta di contatore, andiamo a mettere un nome che sia abbastanza descrittivo, che possiamo scrivere, non so, contatore, oppure possiamo scrivere, non so, numero o number, possiamo scrivere un po' quello che vogliamo, beh, io metto la i, perché la i, diciamo che è un nome di una variabile abbastanza istituzionale, tutti quanti la usano, perché comunque i fa riferimento al numero intero, è molto abbreviato, molto veloce da scrivere. A questo punto mettiamo uguale, e le assegniamo il contatore, il contatore che parte dalla cella 3, fino alla cella 8, per cui facciamo 3 to 8, ecco, adesso 3 to 8, 8 l'ho lasciato così in maniera statica, ma poi vediamo che anche in questo caso qua possiamo renderlo variabile, man mano che si espande il nostro intervallo, con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, però adesso lasciamo 8 che va benissimo, ok? Quindi qua abbiamo aperto il ciclo for, e dobbiamo chiudere con, facciamo un next, e li mettiamo anche la i volendo, questo è facoltativo, per mettere il nome della variabile, ok? A questo punto, visto che i è una variabile, dobbiamo dichiararla, ok? Non dimentichiamoci, dim, i, e se che cosa? Beh, questa qua è una variabile tipo numerica, e le variabili tipo numeriche ci sono long, byte, e integer, questa cosa qua va più che bene integer, ok? Quindi cosa abbiamo fatto? Beh, in questa cosa qua abbiamo dichiarato due variabili, abbiamo impostato qua una variabile, e l'altra variabile qua l'abbiamo messa nel ciclo, ok? A questo punto qua, dobbiamo fare qualcosa di concreto a questa variabile qua, vedete che qua c'è scritto c3 in maniera statica, ma io devo fare in modo che diventa poi c4, c5, c6, c7, come facciamo questo? Beh, ho tolto il numero, dopo le regolette metto la e commerciale, e concateno con che cosa? Con la i, semplicissimo, stesso discorso qua, a, e lo concateno con la i, cosa vuol dire questo? Bene, visto che siamo all'interno di un loop, e visto che c'è un contatore, adesso qua la i assume il valore 3, perché il contatore è iniziato a 3, quindi qua abbiamo c3, e qua abbiamo a3, però man mano che comincia il ciclo, diciamo la variabile i assume un altro valore, in caso in cui nel secondo ciclo, nel secondo loop assume il valore 4, ma poi dopo lo vedremo, per cui diventerebbe qua c4 a4, ma vediamo meglio cosa succede, ecco io con il tasto f8, vedete iniziamo il nostro ciclo, ecco adesso dentro la variabile, ecco qua vedete appena ho eseguito queste istruzioni qua, vedete che dentro la variabile i, vedete che assume il valore 3, quindi abbiamo c3 a3, vedete che succede f4, scusate f8, vedete che mi da esattamente quello che volevo, quando ricomincio il ciclo col tasto f8, vedete che qua ritorna in alto, ritornando in alto, vedete che la variabile i, in questa cosa qua assume il valore 4, per cui qua è come se noi leggessimo c4, a4, vedete, e funziona bene, stesso discorso di prima, adesso la variabile i assume il valore 5, facciamo f8, a questo punto vedete che funziona tutto bene, e vedete che abbiamo lo stesso risultato, poi dopo vedremo anche come gestire gli errori, cosa che con la funzione di Excel avevamo gestita con il se errore, ma vedremo poi come gestirlo con il nostro Visual Basic Application, quindi a questo punto qua funziona bene, a questo punto qua però rendiamo variabile questo numero 8 qua, perché se noi per ipotesi aggiungiamo qualche altro nome, voglio fare in modo che comunque venga preso, come facciamo a fare questo? Bene, dobbiamo fare in modo che noi ci posiziamo nell'ultima riga piena, quando abbiamo l'ultima riga piena ci facciamo il numero di riga, con lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, vale a dire che se l'ultima riga piena è la riga numero 12, ci facciamo restituire la riga numero 12, quindi questo numero qua anzi che 8 diventerà 12, quindi andiamo a inserire una variabile che la chiamiamo dim, la chiamiamo ultima riga, giusto per mettere un nome descrittivo in italiano, ma possiamo chiamarla anche in altri modi, c'è chi scrive ur, o ci scrive in inglese last row, insomma ci sono diversi modi per scrivere la stessa cosa, ok? Scriviamo ultima, anzi facciamo così, ultima riga, ho scritto il minuscolo e il maiuscolo, perché ho messo un maiuscolo? Perché se noi poi scriviamo la variabile in maniera errata, lo capiamo subito perché non è diventato in maiuscolo, ok? Questi qua sono i piccoli trucchetti, dopodiché es che cosa? Beh, è una variabile di tipo numerica, perché abbiamo visto che comunque andava, ci serviamo dei numeri, quindi possiamo fare anche in questo caso qua, l'integer, ok? Numero intero, ovviamente abbiamo dichiarato la variabile, ma dobbiamo fargli fare qualche cosa a questa variabile qua, quindi ur è uguale a che cosa? Beh, è uguale semplicemente all'ultima riga che troviamo qua, quindi lo stesso ragionamento di prima, scriviamo foglio, contro spese, facciamo il foglio numero, siamo nel foglio numero 2, sì esatto, punto range, andiamo nella cella in fondo a 999, 6 volte 9, punto end, aperto la parentesi, excel app, punto row, ok? Quindi in questo caso qua ci istituisce il numero di riga, dell'ultima cella piena che lui trova, ok? Quindi a questo punto qua andiamo a fare un test veloce, se io scrivo qua, non so, Georgia, andiamo a vedere se io, eccoci qua, dovrebbe prendere, no non l'ha preso, perché? Perché non l'ha preso? Ah scusate, la cosa più importante, ho dimenticato di cambiare la variabile qua, ecco qua contro, questo qua è il bello diciamo, ecco qua contro di, ovviamente adesso il contatore va da 3 fino all'ultima riga, ok? Quindi adesso se io scrivo qua Georgia, eccoci qua, facciamo così, facciamo play, ecco qua vedete che mi da Bari, andiamo a vedere se Georgia è uguale a Bari, Georgia è uguale a Bari, perfetto funziona correttamente, adesso questo qua lo possiamo cancellare, bene a questo punto ragazzi, dicevo come avete visto prima, dobbiamo gestire anche gli errori, perché se per ipotesi qua scrivono solo Roberto, qua vedete cosa succede, quelle forme mi danno inesistente, perché io ovviamente le ho messe, in caso di cui c'è un errore mi dà inesistente, vediamo cosa succede se faccio con il Visual Basic Application, cliccando qua il play, mi dà errore, runtime 1004, impossibile trovare la proprietà vlookup, per la classe worksheet function, non so cosa vuole dire, però c'è un errore, dov'è l'errore? beh l'errore è quello che abbiamo visto prima, è un errore che dobbiamo gestire, e lo facciamo guarda caso con la funzione se errore, ovviamente lo mettiamo qua, prima del cerchio verticale, prima di worksheet function vlookup, quindi ci posiziamo qua alla fine, e richiamiamo worksheet function, eccoci qua, punto, e andiamo a chiamare la funzione if error, che è la stessa cosa in Excel la funzione se errore, infatti if vuol dire se, se errore, if error, a questo punto qua, incartiamo in caso in cui c'è un errore, tutto questa modalità qua, vedete che qua abbiamo due argomenti, il primo argomento ovviamente era tutto, quello che aveva creato il cerchio verticale, facendo virgola andiamo nel parametro successivo, che è l'argomento numero 2, che ovviamente noi sappiamo che in caso in cui c'è un errore, cosa vogliamo? E vogliamo una stringa, che venga scritto inesistente, ok? Ovviamente chiudo la parentesi, ecco adesso incrociamo le dita, dovrebbe funzionare, facciamo così, cancelliamo qua tutto quanto, e vediamo cosa accade, ok? Facciamo play, ecco qua, è ricomparso lo stesso errore, vuol dire che qua quando c'è l'errore, lui non lo riconosce, ma perché lo riconosce? Beh qui c'è un problema di fondo, ok? Perché come ho scritto qua io, dovrebbe funzionare bene, perché andiamo a replicare esattamente come era scritto qua, quindi dovrebbe funzionare, non c'è motivo per cui non dovrebbe funzionare, però c'è una regola, che è una regola irregolare, che l'ho trovata in questo blog qua, grazie comunque ai ragazzi di forum.excel.it che me l'hanno segnalato, e praticamente quando abbiamo la funzione vlookup, praticamente per gestire gli errori, ecco qua, error handling, praticamente succede che praticamente anziché worksheet function dobbiamo mettere application.vlookup, ok? Queste sono quelle regole, secondo me irregolari, che così sono, e così ce le teniamo, ok? Quindi c'è poco da fare, secondo me è stata poco implementata questo vlookup, quindi cosa dobbiamo fare? Qui dove c'è scritto worksheet function vlookup, lo togliamo, lo sostituiamo con application, semplicissimo. Ecco non c'è una spiegazione logica in tutto questo, così è, così ce la teniamo. Sono quelle cose così irregolari, così da sapere, ecco da sapere un po' a memoria. Quindi, in caso in cui c'è un errore, mi dai inesistente, in caso in cui c'è un errore nel cerca verticale, mi dai la parola inesistente. A questo punto qua proviamo, facciamo play, vedi che adesso funziona correttamente, ok? A questo punto qua, visto che tutto ormai funziona correttamente, dobbiamo fare il test finale, andiamo a vedere se mettiamo qualche nome nuovo, facciamo ctrl c, e facciamo ctrl d, qua anziché Mimmo scriviamo Pippo, e qua anziché domenico scriviamo Tizio, ok? Vediamo cosa accade. Ovviamente qua se scrivo Tizio, eccoci qua, e qua scrivo Pippo, ecco qua, facciamo in modo che, se con le forme trascino verso il basso, eccoci qua, diciamo così, vedi che me l'ha preso, potenza e Ravenna, andiamo a vedere, si potenza e Ravenna le ha prese, dopodiché andiamo a vedere, fare il tutto con il Visual Basic Application, ma basta semplicemente cliccare il pulsante, vedete? Funziona correttamente. Ecco ragazzi, che dire, sono quelle cose strane che mi fanno un po' rabbia, perché qui avrebbe dovuto funzionare benissimo, però sappiate che comunque c'è questo ostacolo qua, dobbiamo invertire Worksheet Function con Application, è una regola irregolare, come ho detto prima, comunque così è, così ce la teniamo. Tutto il resto, ovviamente vi ricordo che comunque lo scopo di questi video qua ragazzi, non è semplicemente come imparare un determinato strumento, come in questo caso qua in cercare verticale, ma lo scopo è uno scopo didattico, quindi ambientarsi sempre di più nel Visual Basic Application, avere sempre più dimestichezza, però ovviamente potenziare le nostre conoscenze, e appunto migliorare sempre di più. Quindi ragazzi, che dire, per oggi è tutto, adesso ovviamente salviamo e chiudiamo, adesso parte la scimmia, perché ovviamente ragazzi mi devo divertire un attimino, quindi cosa facciamo? cancelliamo, e con il mouse destro andiamo a segnare una macro, che si chiamava cercare verticale, diamo l'ok, e a questo punto, vedete ragazzi, parte la scimmia e non se ne parla più. Ragazzi, per oggi è tutto, come al solito un like se vi è piaciuto, altrimenti un dislike, iscrivetevi al canale se vi siete iscritti, se ovviamente volete, seguitemi sui social, se volete mi trovate, commentate qua sotto in basso nel video, fatemi sapere se questi tipi di video qua vi interessano, vi piacciono, quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.